Isabella appunto è una testimonianza di questo, ma anche il prossimo ospite che abbiamo invitato. Questo è un incontro molto curioso, molto strano se vogliamo, da un certo punto di vista, di cui in realtà mi pento, non ho mai scritto sulla bussola, però mi è rimasto nel cuore. Luis Badiglia al grande pubblico forse è poco noto, però per tutti quelli che si occupano di chiese, di informazione è un fondamento perché lui ha fondato molti anni fa, era il 2006, il sismografo. Il sismografo era un sito che raccoglieva tutti gli articoli principali, importanti, anche di giudizio, oltre che fatti, in quattro lingue e praticamente ogni giorno, continuamente, ogni 5-10 minuti, veniva postato un articolo. Questa cosa è andata avanti fino al dicembre scorso. Luis, poi raccontiamo brevemente la sua storia, peraltro io l'ho invitato anche per parlare con Don Marco Begato della bussola mensile, così per parlare un po' dell'apologetica, però prima ve lo volevo far conoscere perché credo che valga veramente la pena. Dicembre scorso ha annunciato la chiusura perché per ragioni di salute non ce la faceva più. Ma è vecchio, no, è vecchio, ma c'erano delle ragioni di salute che non gli permettevano di sostenere più questo lavoro perché ha vissuto tutti questi anni come un monaco, peraltro aiutato da un'altra persona che con lui, ma pensate, ha fatto tutto da solo senza essere pagato da nessuno, questo sito che è diventato un punto di riferimento per tutta l'informazione cattolica. Poi dopo, magari racconto così un anelio che riguarda un rapporto anche conflittuale con la bussola, per questo dico anche un po' strano, però quando ha chiuso avevo la curiosità di conoscerlo e quindi con mia moglie andando a Roma ho chiamato, non lo conoscevo, non avevo mai avuto nessun tipo di rapporto con lui e gli ho chiesto se potevo andarlo a trovare. E così abbiamo passato non so quante ore in cui mi ha raccontato di tutto, ovviamente di quello che succede in Vaticano sa tutto che viveva e lavorava in questo piccolo appartamento, in una casa popolare, peraltro a due passi da San Pietro anzi a due passi da Santa Marta ancora più precisamente, però non era la posizione quello che gli faceva vedere tutto ma era al dentro, poi adesso si spiegherà brevemente la sua storia perché Luis è cileno, è arrivato in Italia nel 73 nel 73 come esule dopo il golpe di Pinochet perché lui è un medico in realtà e abbandonato che aveva i 27-28 anni ed era un rappresentante anche cileno all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi era anche una personalità in Cile e poi arriva in Italia. Però di questo incontro che abbiamo avuto dicembre scorso mi ha colpito molto perché ho incontrato una persona che anche se abbiamo opinioni diverse sicuramente non ne abbiamo neanche scoperte tutte, ma su tante cose anche della Chiesa la sua estrazione se vogliamo è anche diversa dalla mia, però ci siamo ritrovati, io ho ritrovato una persona appassionata della Chiesa, con un grande amore alla Chiesa e una grande onestà intellettuale che è una merce rarissima di questi tempi, soprattutto nel nostro mondo dell'informazione e quindi ho fatto davvero molto piacere questo incontro, mi ha molto colpito e tanto più se pensiamo invece a cosa è successo negli anni passati, pensiamo al tempo della pandemia come tanta gente che pure condivideva la stessa fede, condivideva la stessa comunità, condivideva tante cose e poi sulla questione pandemia e vaccini si è spaccata completamente, come se la cosa più importante fosse altro. Invece è stato come ritrovare che pur tante differenze ma ci si è ritrovati sul fondamento, sul fondamento vero che è appunto questa appartenenza a Cristo e questa passione per la Chiesa. Ecco, allora volevo proprio farlo conoscere perché credo che valga veramente la pena incontrare una persona così. Non abbiamo tantissimo tempo però. Intanto ci spiega cosa è successo quando è arrivato in Italia, come è finito a fare il sismografo, da dove nasce tutto questo perché è arrivato in Italia in realtà siccome lui non cantava con gli intillimani che quelli della nostra generazione, lo sappiamo benissimo, ci hanno sfracassato, però lui non aveva questa dote musicale e quindi si è trovato un po' in difficoltà. Grazie, sei generoso. Chiedo scusa perché io non parlo in modo ottimale l'italiano, quindi sentirete, dopo il bel inglese di Isabel, sentirete un po' di itagnolo, che è la lingua del Papa tra l'altro, anche lui parla itagnolo, metà italiano, metà spagnolo. Siamo vicini da molti anni, io ero vicino di lui quando era arcivescovo cardinale di Buenos Aires, io ero a Santiago del Cile e siamo vicini adesso perché dalla finestra della mia stanza a Roma io vedo la finestra della sua stanza. Ho lavorato in Vaticano 40 anni, sono incominciato con Paolo VI, al quale incontrai diverse volte per via di un'amicizia, di un grande uomo di chiesa che oggi è morto, Monsignor Virgilio Levi. Lavorai con Papa Paolo VI per diversi mesi perché lui era molto interessato in capire che cosa stava succedendo nel Cile dei Pinochet, del golpe militare. E ci teneva molto, oltre ai rapporti dei nunzi, dei collaboratori della Curia, ci teneva molto a capire in prima persona quanto di quella vicenda cilena, drammatica, sicuramente la maggioranza di voi non la ricorderà, ma è una buona ragione per andarla a studiare. Lui ci teneva molto a distinguere fra quello che era vero, che stava succedendo, in particolare nell'ambito della violazione dei diritti umani, e quello che era propaganda comunista. Nacque una bellissima amicizia, un bellissimo rapporto umano, personale, e una volta mi domandò, ma tu di cosa campi, come mangi? Un po' male, perché sono medico, però finito il contratto con un'organizzazione internazionale non è più valida la laurea, perché aveva la copertura diplomatica. Adesso io non la posso chiedere perché Pinochet non mi la darà. Ero uscito proprio come esule dal Cile perché ero nel quell'elenco famoso che Pinochet faceva a mandare in onda tutti i giorni dopo il telegiornale. E lì io mi vedevo tutti i giorni che ero fra coloro che si dovevano presentare volontariamente, senza paura. Il problema è che la maggioranza di quelli che si sono presentati non sono purtroppo vivi. Raccontai a lui tutto questo, alla fine diceva, ma tu di cosa campi? Come mangi? Come ti compri scarpe? E ho detto, quando posso, faccio i mercati generali, assisto malati moribondi e via dicendo. E lui mi dice, vai alla Radio Vaticano perché lì ti trovano qualcosa da fare. Sono andato e sì, me l'hanno trovata per 40 anni. Adesso sono un vecchio pensionato piuttosto malato. E tutto là, non c'ho altro da dirti. No, però, però, in Vaticano cosa facevi? In Vaticano sostanzialmente ho fatto quattro cose. La prima, imparare il giornalismo, perché io ero un medico, ero un chirurgo, io sapevo lavorare nella sala operatoria, aprire le teste, spaccare la colonna vertebrale. Sì, noi siamo carrozzieri, nessun rispetto per i chirurghi, i chirurghi sono tutti carrozzieri. Se c'è qualcuno qua che venga a condividerlo con me, perché so che è d'accordo con me. Allora, imparare a diventare giornalista, perché dovevo rendere e giustificarmi la pagnotta, non potevo prenderla perché ero amico del Papa di turno, per così dire. Innanzitutto l'italiano, che come vedete non è che l'ho imparato un granché. Oh, va benissimo, l'italiano va benissimo. L'accento spagnolo aggiunge qualcosa. Aggiunge fascino, dicono. Sì, esatto. Allora, niente, la prima parte traduttore e speaker. Questa era la cosa che più si valorizzava e si considerava importante, perché in Spagna non piaceva la radio vaticana, in America Latina non piaceva la radio vaticana, perché gli speaker erano di musicalità spagnola, che è un po' odiosa, secondo loro. Allora, volevano anche uno speaker con la cadenza latinoamericana. Il cardinale Tucci, deceduto, un grande uomo, mi incoraggiò a far più che altro lo speaker, perché secondo lui il messaggio della radio vaticana arrivava in modo più gradevole nei paesi dell'America Latina. Allora la radio era fondamentale, adesso la radio manco esiste. Questa è la prima parte. La seconda parte sono diventato un professionista serio. Mi facevano scrivere, potevo andare a intervistare cardinale, prefetti, sottosegretari e via dicendo. Poi mi hanno permesso di avere la mia rubrica, poter scrivere. Non sono mai stato censurato. L'unica condizione che mi è stata posta dal primo giorno da parte di Tucci, che era il direttore, tu il tema cileno non lo puoi toccare. Ogni qualvolta ci capita di dare una notizia sul Cile, tu trasmette la notizia a un collega. Tu del Cile non puoi parlare. Del resto fai quello che ti pare. E' andata così per 30 anni più o meno, perché la terza fase penultima in Vaticano la radio è stata quella di assistere direttamente a Federico Lombardi, che era l'allora, aveva molte cariche Federico, era direttore della radio vaticana, direttore della sala stampa vaticana, direttore del centro televisivo vaticano. Cioè praticamente era un vice papa. E gli era capitato di farlo, prima con Benedetto e poi con la prima parte del pontificato di Francesco. Con il primo un rapporto eccezionale, con il secondo un po' più complesso. L'ultima quarta parte di questi 40 anni è consulente della Segreteria di Stato per la politica internazionale. Ecco, tu hai conosciuto quindi diversi papi anche. Ecco, che cosa ti ricordi dell'uno e dell'altro? Cioè se dovessi definire da Paolo VI in poi, cosa ti ha colpito? Ah no, se ti dovesse parlare delle cose profonde, avrei bisogno di un giorno, non ce l'abbiamo. Allora ti dico le cose più simpatiche, ma anche piene di contenuto umano. De Paolo VI gli occhi, meravigliosi, meglio del cuore, bastava guardarlo e che tu ti guardassi, che lui ti guardassi, era un uomo piccolo, fragilissimo, aveva una voce incantevole e una delle cose più entusiasmanti per me era che ogni volta che ci incontravamo il pomeriggio dopo le quattro, quando lui già aveva finito tutti i grandi impegni, io mi sedevo davanti a lui e lui trascinava la sua poltrona e aveva come misura un palmo dai miei ginocchi. Mi metteva la mano e diceva, ok, quindi io ero distanziato da lui da un palmo fra i due ginocchi e si parlava anche un'ora, due ore e altre cose ancora molto più importanti. De Giovanni Paolo II molte volte l'ho incontrato, ho lavorato... Tra l'altro tu sai che qua siamo nella zona di Paolo VI, qui vicino. Brescia, Brescia. Sì, so che da queste parti è santo prima che lo facesse la Chiesa. Giovanni Paolo II, meraviglioso, anche i viaggi con lui. La cosa più bella è la prima volta che ci siamo incontrati, ma non in Vaticano, a Vezzano, dove la Radio Vaticano aveva le antenne. Fu quello che mi presse le orecchie e mi disse, sono di plastica? Naturalmente a Papa Luciani purtroppo no. Francesco no, Francesco lo avevo conosciuto prima che diventato... Ah, ho saltato Benedetto, bravo. Perché essendo lui così mite, uno manco si ricorda in pubblico di lui. No, un grandissimo, un uomo che nonostante la sua timidezza, che a volte appariva come lontananza, come distanza, non appena si entrava in sintonia era straordinario. Io sono un grande debitore di lui perché quella piccola realtà che tu hai ricordato, la creazione del sismografo, è nata sotto il suo incoraggiamento. Il sismografo è nato esattamente dopo il famoso discorso di Ratzinger a Ratisbona, che si creò un pasticcio internazionale orrendo perché lo accusarono di anti-islamico, di anti-musulmano, per una citazione che aveva fatto. E il discorso venne pubblicato le prime cinque ore per un errore Vaticano, senza le note a piedi pagina. Quindi quello che era una nota di Benedetto XVI, virgoletata con una fonte precisa, venne distribuita come parole testuali di Benedetto. E nel frattempo scopriò il cassino orrendo perché durò anni, tre, quattro anni, ci siamo enemicati, come si diceva, il mondo musulmano, al punto tale che Papa Francesco ha pensato programmaticamente da recuperare il rapporto con i musulmani, ma non era così. Non era così. Vabbè, però quello che passò sulla stampa, che è il potere più importante che noi abbiamo in Italia, in Europa e in gran parte del mondo, allora lui chiese aiuto, Papa Benedetto, era in Germania, chiese aiuto tramite il Cardinale Tucci, il Cardinale Tucci chiama la radio Vaticana, ero io di turno, e mi dice al Santo Padre le si deve consegnare entro le sette del pomeriggio una rassegna stampa breve, sintetica, in italiano o in inglese, su tutto quello che sta dicendo la stampa del mondo a proposito del discorso del Ratisbona. Lo fece io con un altro collega e gli abbiamo nutrito questo monitoraggio ogni sette-ott'ore. Tornando al Vaticano dopo la visita era molto contento, ha ringraziato. Questa esperienza si ripete due altre volte. L'altra volta è quando scoppia la pedofilia in Irlanda e la terza volta o seconda, adesso non ricordo la cronologia, è quando lui deroga, le scomunica di quattro vescovi preconciliari o lefebriani che Giovanni Paolo II aveva scomunicato, i famosi vescovi e lefebriani. fra questi quattro che veniva, i quali venne detto per riconciliazione, per mantenere viva l'unità della Chiesa anche nella diversità, non era stato informato che uno di questi quattro, uno matto, che si chiama Williamson, Richardson, aveva parlato nel frattempo contro la Shoah dicendo che l'Olocausto non era mai esistito. Papa Benedetto avrebbe dovuto sapere tempestivamente che questo matto girava dicendo questo in un filmato della televisione svedese. Noi lo abbiamo consegnato, io, l'ho consegnato personalmente a padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa, con tre giorni di anticipo dicendole guarda quello che sta girando. Certamente io non sapevo che il Vaticano e il Papa stavano preparando la revoca dell'escomunica. L'ho consegnato perché era grave di per sé. Da Federico passò alle mani del Monsignor Polbani, che era in quel momento il direttore del WIT, l'Ufficio Informazione e Documentazione della Segretaria di Stato, che lo vide, tradusse la parte più delicata e lo consegnò all'allora Segretario di Stato, Cardinal Bertone. Da lì in poi non si può capire nulla di quello che è successo con il filmato e la sua traduzione. È successo che Benedetto ignaro pubblicò il decreto di revoca dell'escomunica, scopriò il putiferio violento, per la prima volta diversi episcopati fecero dichiarazione contro il pontefice Benedetto, al punto tale che Rassigre molto addolorato scrisse la famosa lettera ai vescovi cattolici della Chiesa e del popolo di Dio. In quella lettera Benedetto mette questa frase è evidente che la Chiesa non ha capito e ha sottovalutato l'informazione che gira tramite la rete, lui la chiama internet. settimane dopo vedendo l'esperienza ratisbona, l'esperienza pedofilia in Irlanda e anche questa esperienza della revoca dell'escomunica io ho proposto siamo un gruppo piccolo siamo due in realtà ho inventato un gruppo per impressionare eravamo due lui le conosce all'altro che è un canadese che è tornato in Canada anche lui si è pensionato lui era un ricercatore dell'UNESCO e ho fatto la proposta lo facciamo noi come laici senza coinvolgere alla Santa Sede si va bene va bene si va male va male non siete coinvolti non è una cosa ufficiale del Vaticano eccetera eccetera certo che si deve più o meno accreditare come una cosa vicina al Vaticano e come si accredita beh gli altri colleghi si incaricaranno di dire hanno buona informazione hanno buone orecchie ma come fanno i giornalisti che hanno un sacco di tecniche la metà delle quale false fonti ben informate le famose fonti ben informate l'alta nomenclatura vaticana che a volte è il portiere il cardinale che sono io allora abbiamo incominciato con otto i nostri primi elettori per un mese sono stati otto abbiamo finito con quattrocento quattrocentomila al giorno ti faccio un'ultima domanda poi dopo tu resti qui io me ne vado perché arriva no arriva insieme a Don Marco parlate di bussola no perché è interessante perché noi abbiamo sempre seguito ovviamente il sismografo quello che pubblica e io devo dire che per tanto tempo era soprattutto una rassegna stampa poi cominciano ad apparire dei commentini delle note firmate da Luis Badiglia io non ho mai capito chi fosse questo Luis Badiglia in realtà neanche io giravano tante voci su chi se fosse semi ufficioso ufficioso ufficiale chi c'era dietro chi lo pagava chi lo pagava però alla fine vabbè io non sempre è rimasto un punto interrogativo poi queste note questi commenti diventano sempre più frequenti e frequenti e critici e soprattutto critici nei confronti dell'attuale pontefice sempre molto insomma un crescendo è stato un crescendo fino alla fine e in questo crescendo c'è anche il fatto che per tanti anni lui ha sempre sistematicamente ignorato la bussola e questo mi colpiva perché perché comunque pubblicava anche giornalisti o articoli diciamo di destra diciamo così ma non mi piace l'espressione ma per intenderci perché non mi sento neanche di destra ma è proprio quella che va come normalmente come si dice come viene classificata dai giornali quindi non riuscivo a capire perché pubblicava Tosatti Rusconi Magister tutti però tra l'altro con cui noi avevamo rapporti ma chissà perché non tra l'altro è l'ultima domanda che gli ho fatto quando l'ho incontrato a casa sua a dicembre prima di uscire perché è proprio una curiosità io però non ho mai non ho mai detto nulla non mi sono mai lamentato non ho mai chiesto ragione mi ricordo solo di avergli scritto una volta all'inizio quando siamo usciti con la nuova bussola quotidiana che l'ho avvertito che eravamo di nuovo online ma dopo di che io non ho mai detto nulla su questo né a lui né ad altri perché sono sempre stato convinto che poi ognuno a casa sua fa quello che vuole cioè è liberissimo non è che ho un diritto di essere ripreso da altri se lo trovano interessante poi a un certo punto però vedo che comincia a pubblicare qualcosina ovviamente soprattutto Luisella Scrosati i suoi articoli di chiesa c'è qui se non è scappata via si deve fare un selfie con me Luisella dopo lo facciamo non dimenticarlo e allora ecco questo cioè queste cose sono andate un po' di pari passo però poi lui mi ha spiegato cosa cosa è accaduto e ha a che fare con la verità e l'importanza della verità per la chiesa giusto tutto vero quello che tu hai detto tra l'altro hai una splendida memoria io delle cose sei mesi fa già non mi ricordo allora sì è vero la responsabilità nel bene e nel male era tutta mia io decidevo io leggevo io sottolineavo io scartavo io censuravo io gonfiavo era questo il mio dovere ed era questo che io volevo fare cercare di creare una rassegna stampa online il più libera possibile io a Papa Benedetto quando sono andato a ringraziarlo per il suo consenso al sismografo consenso come laico autonomo indipendente la chiesa non c'entrava niente l'unica cosa che fece Benedetto è usare le due manino per dirmi sismografo allora non si ho perso un po' il filo sono andato a chiederle vedi che sono vecchio nonno è la pasticca che non le hanno dato al nonno la pasticca allora niente ho da lui l'approvazione per poter fare questa esperienza per l'onessima volta chiarissimo che siamo amici alleati ma non siamo marito e moglie quindi che ognuno per il suo cammino era lo stesso accordo con padre Federico Lombardi allora che cosa succede che io assumo la responsabilità di ogni cosa e voglio che corrisponda al vero perché poi non voglio rispondere per altri il mio criterio non solo con voi praticamente con tutti era prima conoscere chi stava dietro ma non nel senso chi lo pagava lo finanziava per questo è una storia un po' confusa e ipocrita nel mondo dei media no qual era la sua consistenza religiosa nonché giornalistica quindi io ho sottoposto a controlli a prova perché io so che non sono un talento che non sono un genio lo so lo so però non sono stupido e soprattutto ho una vecchia esperienza a me il primo articolo in cui un cardinale viene dato per monsignore o un monsignore viene dato per per arcivescovo un monsignore vescovo non lo continuo a leggere il Vaticano che poi è la Chiesa Cattolica i 2000 anni di storia è una cosa estremendamente complessa che devono passare anni per poter dire più o meno lo conosco meccanismi tradizioni costumi precedenti persone carrierismo corruzione santità è un mondo neanche una vita te lo aiuta a capire poi se tu pensi che sostanzialmente tutto quello è cartapesta perché quello che conta è la fede che sta dietro che non la vedi c'è un piccolo racconto e spero di concludere rapido c'era una volta un signore che è nato in oriente ha vissuto 30 anni con la madre e il padre che lo amarono e lo educarono nell'amore a un certo momento se n'è andato di casa e si è messo a girare intorno a un lago e altri posti e ha scelto 12 persone questo tra cui uno che si chiamava Pietro Simon Pietro dopodiché si fece uccidere è stato ucciso al terzo giorno è risorto ma veramente risorto era il figlio di Dio domanda mia ci crediamo o non ci crediamo in questo perché questo siamo noi ci credi o non ci credi e il resto è carta pesta io volevo che il sismografo cercasse di trasmettere quello con una aggiunta non indifferente molto attuale fra noi ci sono ci sono state e ci saranno sempre differenze perché grazie a Dio ci ha fatto diversi uno dell'altro dal primo all'ultimo uomo da quando esiste l'umanità non c'è stato nulli nessuno nessuno che sia come me né come te né come te siamo tutti quelli che già sono morti quelli che viviamo oggi quelle di domani tutti siamo unici irripetibile diversi diversi altro che diamante tutti noi siamo rari nessuno è copia dell'altro neanche lontanamente così ci ha fatto Dio e se ci ha fatto così ci ha messo insieme è perché dobbiamo vivere insieme nella diversità di opinione di etnie di stirpe di razza di sangue di sesso dobbiamo vivere così basta solo vivere educatamente con rispetto reciproco vero ci sono molte cose che nel passato e magari nel futuro con Riccardo la sua fatica editoriale la sua rivista io non ho condiviso non condivido però lo rispetto e lo amo profondamente perché è un mio collega è un mio compagno di fede se lo vogliamo mettere così abbiamo lo stesso Dio crediamo negli stessi sacramenti pratichiamo l'esteta liturgia per così dire non ho capito questa guerra civile che si è scatenata nella Chiesa Cattolica negli ultimi anni e guardate che non basta dire siamo tutti uguali siamo tutti fraterni il dialogo il confronto no questo lo si deve praticare dimostrare nei fatti non serve a niente andare in Oceania o in Asia a predicare il dialogo il confronto l'unione la richiesta della diversità e l'unità si poi arrivo a Roma e incomincio a dividere il resto qui poco fa e ti giuro che chiudo Isabella ha parlato del dramma del diritto alla vita dell'aborto e via dicendo e conosciamo la sua meravigliosa testimonianza la sua vita anche il Papa parla a favore della vita contro l'aborto però chiama alle mamme o alle donne che abortiscono li chiama assassine e ai medici che praticano l'aborto li chiama killer e chiama l'aborto killeraggio oltre alla banalità delle parole che un Papa non dovrebbe usare noi noi cattolici lui che è il pastore universale ha gli argomenti migliori per creare la cultura della vita dimostrare perché la vita non è nostra che non siamo proprietari che ce l'hanno data per amministrarla perché io devo usare nei confronti di una nonna nel dramma dell'aborto parole offensive perché perché devo fare la leadership politica culturale o devo guidare il popolo santo fedele di Dio cioè io ho delle differenze e glielo ho detto personalmente al Papa e non una volta diverse volte e non quando è scoppiato quando stava per scoppiare e lui voleva andare in Cile la mia nazione voleva sapere che cosa incontrava noi altri le abbiamo spiegato che Cile poteva incontrare che disastro di chiesa che disastro con la pedofilia l'orrore della chiesa cilena nel 2018 lui ha preferito prendere come visione anticipatrice quella che le davano i suoi amici cardinali cileni mezz'ora dopo essere arrivato a Santiago del Cile capì subito che era un disastro il viaggio non c'era anima viva nell'aeroporto lo hanno dovuto far scendere dalla Papa mobile e mettere in una macchica chiusa perché trovava solo edicolante applaudirlo allora lì incomincia succede qualcosa in virtù della quale non che io ero un bergogliano mi sono convertito a una posizione anti-bergogliana no io non sono mai stato bergogliano né rasingeriano né boittiliano né montiniano per me era il mio Papa e lo è tuttora il mio Papa e basta quello che è successo a me e a tantissime altre ed è un fenomeno in crescita è una delusione io sono un deluso amo la mia chiesa una ragione di fondo per la quale ho chiuso il sismografo oltre alla vecchiaia e alle malattie è perché voglio morire cattolico grazie